Come on! Beh, la mia aranciata è finita. Ops! Ah, mi è caduta. E raccoglila, no? Ma... Perdiamo tempo per la spesa così, andiamo. Ken! Ci impieghi un secondo a buttarla nel cestino. Ma tanto tutti fanno come me. Non solo con le bottiglie di plastica, ma anche tipo quegli involucri delle caramelle, con gli scontrini. Se tutti ragionassero come te, la città sarebbe un mare di rifiuti, ci si potrebbe nuotare. Britney, ne stai facendo un dramma per niente! Per niente, Ken. Io lo dico per il nostro futuro. Io tutti questi rifiuti non li vedo neanche. Se lascio una bottiglia di plastica, cosa vuoi che cambi? Io non la raccolgo. Ah, Ken, con te non si può proprio ragionare. Mi ci vorrebbe un modo pratico per farti capire quanto sia importante raccogliere rifiuti. E quanto questa città sia sporca. Trovato! Lasciamo perdere la spesa, raccogli quella bottiglia e torniamo a casa. Dai, andiamo! Britney! Buongiorno a tutti, ragazzi. E vi ringrazio per la disponibilità. Oggi siamo qui tutti riuniti per una causa molto importante, ovvero quella dell'ambiente. Oh, Paltrow, devi organizzare queste cose proprio di mattina. Sono le sei e mezza. Eh, infatti. Per favore, so che è presto, ma siete tutti svegli e concentrati. Che cosa dovremmo fare per l'ambiente, Paltrow? Su, spiega. Beh, ho pensato che dovremmo fare un'opera buona per il nostro pianeta e per la nostra città. Di fatti ho pensato che potremmo dividerci a coppie e raccogliere i rifiuti. Mi sembra davvero una buonissima idea. Oh, Britney, che gesto nobile. Sono completamente d'accordo. Secondo me è una cavolata. Dopo che avremo pulito, altre persone andranno a sporcare. E allora, a che cosa sarà servito? Sam, sei tutte le città del mondo. Tutti facessero quello che facciamo noi oggi. Le cose cambierebbero davvero. Tu dici che non serve a niente perché siamo in pochi, ma sappi che per un milione si parte da uno. D'accordissimo, Britney. Ogni coppia andrà in un punto diverso della città e con questi sacchi raccoglierete l'immondizia. Poi a fine giornata ci raduneremo e vedremo quante immondizie abbiamo raccolto. Perfetto. Non trovi che sia una bella cosa, Sam? Sam? Cosa? A coppie dobbiamo raccogliere i rifiuti della città oggi. Vale a dire che dobbiamo pulire la sporcessa degli altri. Visto che per le coppie non voglio che si creino discussioni, starete con il vostro vicino sinistro. Quindi Ken e Jay, John e Nikki, Rosalinda e Luke, Justin e Jade, Lex e Sean, Katie e Jennifer, Sissi e Liam e io e Sam. Ora decidiamo i punti in cui andranno le varie coppie. Ci vediamo qui più tardi e ci terremo in contatto con Whatsapp. Allora Sean, guardati un po' intorno. Io detesto questa roba, è noiosa. Sean, non dire così. Britney ha ragione, stiamo facendo una giusta cosa. Sì, ma potrebbe benissimo farlo lei da sola. Temo che sarà dura collaborare con te. Ehi Sean, lì c'è una bottiglia di plastica. Abbiamo fatto 100. Perfetto. Muoviamoci però, temo che la giornata sarà molto lunga. E a noi Jade, tocca questa zona. È molto vasta. Credo che ci impiegheremo un sacco di tempo. Sì, ma io ho sonno. Jade, dobbiamo lavorare. Oh, mi ero scordata. Sono più che sicuro che dietro a quel muro troveremo un sacco di roba. Insomma. Andiamo a dare un'occhiata. Che posto malfamato della città. Perché è proprio a noi qui? Beh, perché a qualcuno toccava, Ken. Jade è con Justin. E Lexi con Sean. E ti dà fastidio? Sì, abbastanza. Non so se ti ricordi il bacio ad obbligo verità. Oppure quando sono andati al concerto insieme. Beh, non per dire, ma Sean sembra la tua bella copia. Oh, Ken. Scusa, scusa. Hai ragione. Non pensavo che New York potesse essere un posto così sporco. Guarda. Boh, te ti fai problemi del genere. Io invece comincio ad odiare Britney dopo quello che ci ha costretto a fare. Odiare Britney? Ma sei una ragazza così gentile. Ah, infatti stavo scherzando. È una delle mie favorite girls. Forza. Cerchiamo qualcosa da buttare. Ehi, ma che cos'è quella busta? Ah, credo sia il risultato di una persona svogliata che non ha voglia di buttare l'indifferenziata nel bidone. Forza. Pensaci tu, John. Ok. Oh, che puzza bestiale. Mi sta venendo da vomitare. Ah, non esagerare, Johnson. Ecco, la puzza in spalla, come si dice. Ehi, non pensare che ci porteremo dietro quella sporcizia tutto il giorno. Devi andare a buttarla, cosa vieni incontro a me. Oh, scusi, Nicky, hai i suoi ordini. Hai i suoi ordini. Jenny! Devi aiutarmi. Non posso mica fare tutto io. Che noia! Britney è sempre a rovinarmi la vita. Ah, beh, mi dispiace che tu e Sam vi siate lasciati. Ma almeno hai Sisi. Beh, Sisi mi ha tradita. Tradita? Stavate insieme. Ma che vai a pensare, Katie? Intendo come amica. È colpa sua se sono in questa situazione. Mi ha mentito. Non so che cosa sia successo. Ma io so che lei ti vuole davvero tanto bene. Siete state amiche per così tanto tempo e... Mi dispiacerebbe se rovinaste tutto così. E che dovrei fare, secondo te? Perdonarla? Ma certo! Sai, secondo me i litigi rafforzano le amicizie. Perciò, quando sarete tornate amiche, capirai quanto sia indispensabile per la tua vita. Ah, dai! Aiutami a scendere che così ti do una mano con la differenziata. Ah, questi ubriaconi che lasciano le bottiglie di vino vuote nel prato. Yook! Guarda che bel fiore giallo! Ah, Rosie, devi raccogliere i rifiuti. Non strappare i fiori. I fiori abbelliscono. I rifiuti sono solo sporcizia. Stai zitto, non smetti di fare il polemico. Polemico? Io? I polemici sono quelli che parlano ore ed ore e sono dei rompiscatole. Tipo tu. Oh, scusa, non volevo dirlo. Ho già fatto abbastanza per renderti triste in passato. Mi dispiace. Rosie, io sono andato avanti ormai. Tranquilla. Dovvero non mi odi più per John? Davvero? Ah, ma che stai dicendo? Io non ti ho mai odiato. Ah, Yook, sono così felice. Ti regalo questo fiore. Ok, basta che mi aiuti adesso. Va bene. Sì, sì, raccogli. Ma è difficile muovermi e piegarmi con questi pantaloni. Beh, sei tu che non ti saresti dovuta vestire in questo modo per fare la raccolta differenziata. Ma io che ne sapevo di che cosa dovevamo fare. Britney mi ha chiamato alle 6 di mattina, capisci? Mi ha svegliato lei e mi ha detto di incontrarci lì, in quel determinato posto, alla determinata ora. Io odio svegliarmi presto. Oh, mamma mia, avrò le rughe pur quanto io abbia messo un chilo di trucco. Beh, per me non è stato un problema. Io vado a dormire sempre, ad un orario appropriato. E tu invece, Sissi, quando vai a dormire? Non rompere. Non darò sicuramente informazioni a te, occhialuto. Occhialuto? Come se fosse un difetto. Per me è solo un abbellimento. E per finire questa? Finalmente abbiamo finito. Sono esausta. Quest'area è sicuramente tutta pulita. L'abbiamo perlustrata così bene che ormai si è fatta sera. Il tempo è passato così in fretta. Passa in fretta quando si sta bene. E tu come stai? Con Jenny, sai com'è? Beh, io con Jenny non ci parlo più. E sono felice. E tu invece? Quanti mesi di fidanzamento con Luke? Io e Luke non stiamo insieme. Ma io vi ho visto baciarvi. Non era vero. Era un amici in scena. Piuttosto, guarda che bel cielo. C'è anche di meglio da guardare. Bene, finalmente siamo giunti al termine della giornata. Molti di voi saranno felici del lavoro svolto. Altri invece avranno sicuramente voluto fare di più. Ma in ogni caso, ormai quel che è fatto è fatto. Sono molto fiera del lavoro svolto con Sam. Spero lo siete anche tutti voi. Come potete vedere abbiamo raccolto molte cose. Abbiamo fatto un'opera buona. La persona con cui ho lavorato non ha aiutato molto. Però devo ammettere che sono orgoglioso di me stesso. Sono felice del lavoro svolto. Che a me sia andata bene o male questa giornata? A casa mi faccio una bella doccia. Mi sa anch'io per una volta. John, non fare il pozzone. Hai visto Ken? D'immondizia ce n'era. E se le persone ragionassero tutte come te, a quest'ora troveremo anche nelle strade dove camminiamo ogni giorno. Tutto questo schifo. C'è più plastica di quel che io pensassi. Non possiamo continuare così. Bendito amore mio. Penso che se tutti quanti facessero come abbiamo fatto noi oggi, a quest'ora ci sarebbe più rispetto per l'ambiente e per il mondo. Il mondo è la nostra casa. Siamo tutti coinquilini. E non possiamo ridurlo in spazzatura. Non ce n'è un'altra di casa. Ah, ma ti senti? Fai sempre il polemico. Forse intendevi poetico. Quando lasciamo qualcosa per terra, pensiamo di fare una stupidaggine. Ma nel resto del mondo, ci sono tante altre persone che stanno facendo la stessa cosa in quel momento. E allora, immaginatevi quanta roba si accumula. Non dovrebbe assolutamente succedere. So che tutti voi avete detto delle cose sagge, poetiche, quello che è. Però io me ne uscirò con un'opinione molto stupida, ovvero che è stato molto divertente fare quello che abbiamo fatto oggi. Lo rifarei sicuramente. Quindi sono stata divertente? No, io ti dicevo in generale, siccome è la cosa. Mi è piaciuto. È stato come fare ginnastica. Piegarsi, prendere busta, piegarsi, prendere busta, piegarsi, prendere busta. Ken, ci rivedo. Non so voi, ma io da questa esperienza ho imparato tanto. Penso che d'ora in poi, quando vedrò un rifiuto per strada, lo raccoglierò se mi è possibile. E mi impegnerò il più possibile a non lasciare cadere nulla dalle mie mani. Mi sembra anche io voglio impegnarmi. Sì, anche io voglio fare così. Che bella cosa, è vero, che bella cosa. Ciao, ciao.